Questa iniziativa nasce da una ottima ed efficace collaborazione con Biblioteca Civica di Martellago e questo penso sia un vanto per noi e anche per la biblioteca perché vuol dire mettere assieme delle sinergie che prima erano invece mosse su settori un po' diversi. Quindi parliamo da parte della biblioteca somministra cultura e da parte nostra invece vorremmo somministrare benessere e salute attraverso che cosa? Attraverso il cammino, il Nordic Walking che è la nostra disciplina madre dove diamo tutte le nostre attività, le nostre così conoscenze per infondere una cultura del cammino, del movimento che è di fatto la base per un benessere di tipo generale. Il vostro gruppo organizza una serie di incontri per continuare a informare, per continuare a incentivare la gente a fare sport. E quanto è importante diffondere questa cultura sportiva attraverso questi incontri? Per noi è fondamentale, la nostra disciplina anche se è sotto legge della Federazione Italiana di Atletica Leggera, noi così per scelta siamo staccati dall'elemento competitivo, quindi ci occupiamo essenzialmente di curare il benessere delle persone, cioè quindi lo star bene. Lo star bene, ripeto, a qualsiasi livello perché questo è anche un'attività preventiva per possibili patologie che se uno è sedentario potrebbero nascere. Per quanto riguarda la nostra attività la vediamo in crescita, in crescita anche notevole come numero di adesioni, proprio perché piano piano con queste attività culturali riusciamo a far passare un messaggio che è recepito e che è apprezzato peraltro, perché ecco serate come queste danno dei risultati di tipo informativo veramente importante e preferibili a qualsiasi altro tipo di iniziativa. Siamo con la dottoressa Rossato in un incontro sul segreto per vivere fino a cent'anni e qual è questo segreto? È una bella domanda, cercheremo di capire insieme un po' in questa serata quali sono le indicazioni più appropriate per uno stile di vita corretto che possa chiaramente aiutarci nel migliorare la nostra salute sia in termini di prevenzione e anche di miglioramento della qualità della vita. Sicuramente lo stile di vita prevede una buona alimentazione e un buon livello di attività fisica inteso come sport ma più in generale appunto come stile di vita attivo ed è quello un po' di cui parleremo questa sera. Di alimentazione oggi si parla tantissimo proprio perché si sa quanto appunto sia importante per la nostra salute. Sicuramente va detto che sia nel caso in cui ci approcciamo all'alimentazione e alla dieta per perdere peso sia nel caso in cui vogliamo farlo appunto per migliorare la salute. Le diete idratiche sono assolutamente da evitare. È sempre bene approcciarsi ad uno stile alimentare vario che preveda l'inclusione di tutti i gruppi alimentari seguendo un po' quelle che sono le linee guida e quindi la famosa piramide alimentare della dieta mediterranea che prevede appunto il consumo di tutti i gruppi alimentari chiaramente con alcuni alimenti da consumare in maniera un po' più moderata e dando invece largo spazio a quelli che sono gli alimenti vegetali per cui un buon consumo di verdura, frutta, di cereali integrali e una varietà dei vari alimenti proteici sia di origine animale che vegetale. E come dicevo prima non sono da demonizzare in assoluto nemmeno i dolci come nessun gruppo alimentare in assoluto. È chiaro che alcuni alimenti come appunto i dolci vanno consumati in quantità moderata per cui è sempre la frequenza e la quantità con cui consumiamo certi alimenti che fa la differenza sull'effetto che hanno in termini di salute per cui il dolce ogni tanto non è sicuramente il problema. Chiaro che se diventa un consumo frequente o abituale può darci delle ripercussioni in termini di salute. Quindi ripeto frequenza e quantità di consumo fanno la differenza. Incontriamo con piacere il dottor Bisconci, è istruttore sportivo e medico. Siamo a un incontro dove bisogna dare dei consigli per vivere fino a cent'anni. Lei ha detto bene, istruttore e medico. Io non so dove finisca l'essere istruttore e dove cominci l'essere medico o viceversa. Una cosa è certa che per rispondere un po' a questa domanda qui è fondamentale l'attività fisica. Ovviamente va associata sicuramente a uno stile di vita completamente sano che riguarda quello che mangi ma soprattutto quanto ti muovi. Proprio stasera prima di venire qui mi è capitato per l'ennesima volta in questa settimana sotto mano un articolo appena pubblicato in cui anche per malati cardiaci per esempio quelli che hanno delle malattie del ritmo come la fibrillazione atriale pare che l'attività fisica sia proteggente. Quindi non passa diciamo giorno in cui fare attività fisica non sia veramente un farmaco. Il messaggio che vorrei lasciare questa sera se mi riuscirà anche di farlo rendere semplice è proprio questo. Noi medici abbiamo un nuovo farmaco a disposizione. in realtà è un vecchissimo farmaco ma ce lo siamo dimenticati noi e ce l'ha dimenticata un po' la gente che è fare attività fisica. Ci sono mille modi per farla magari sicuramente non capiremo tutto in un incontro così o in altri ma l'importante è che ci sia questo cambiamento di mentalità che non è un cambiamento semplice. Movimento come farmaco e quindi medici prescrivano il movimento come se fosse un farmaco. Sono sufficienti i classici 10.000 passi al giorno. Potrei dire che in termini quantitativi sono sufficienti 45 minuti, 50 minuti al giorno o 5 volte alla settimana di un'attività vigorosa. Vigorosa non vuol dire che deve essere sfiancante ma che porti ovviamente nella consapevolezza che l'apparato cardiovascolare sia a posto eccetera che porti una frequenza cardiaca intorno ai mediamente ai 120-130 battiti al minuto a seconda dell'età della persona che la pratica. Ci si può organizzare lasciare la macchina più lontano dal posto di lavoro, fare mezz'ora di cammino all'andata e mezz'ora di cammino veloce al ritorno e tutto questo è già sufficiente. Non è sufficiente invece il cammino di quelli che dicono ma io al lavoro cammino molto perché non è mai un cammino prolungato, sono sempre piccoli spezzoni. È importante che almeno una tranche di cammino sia superiore ai 20 minuti. Poi può anche essere spezzettata ma almeno una tranche deve essere superiore ai 20 minuti. Pare che al 19 minuto comincino a essere secreti certi ormoni con finalità positive per la salute e per il benessere della persona. Quindi almeno 20 minuti di fila, poi arrivare a 45-50 in tutto. A questo incontro un grande appassionato di sport e del suo territorio è il vice sindaco Marco Garbin. Questa iniziativa è nata grazie alla collaborazione primis della Biblioteca Civica di Martellago e poi delle associazioni Lions Team e tutte le associazioni che naturalmente si occupano di sport nel nostro territorio. Perché benessere? Perché il benessere parte prima di tutto dal fisico certo quando si cammina si aiuta il fisico a dare il massimo ma anche dallo spirito perché la biblioteca essendo un luogo di cultura è il luogo dove anche si allena diciamo la parte dello spirito e la parte della mente. Ecco l'unione delle due cose è stata un po' l'idea che ha messo insieme un po' questa esperienza. Nata un po' anche mentre si faceva la camminata letteraria abbiamo pensato ma perché non si possono unire due cose così interessanti e creare l'opportunità in modo che la biblioteca diventi il luogo dove si crei cultura ma cultura anche del benessere e dello stare bene. Siamo all'interno di una biblioteca quindi oltre a camminare impariamo anche a leggere e a imparare tutto quello che ci circonda di nuovo. Siamo a un incontro dove si parla di salute e benessere e naturalmente qui a Martellago non poteva mancare Beppe Marangon del Brema Sport e presidente del Brema Running Team nonché istruttore di Nordic Walking. Sì beh questa penso che sia una serata ideale per prima di tutto per i cittadini e prima di tutto anche per gli atleti è un momento che fa sintesi di vari aspetti per quanto riguarda la cultura sportiva che non è solo correre o camminare o fare Nordic Walking ma c'è tutta una parte precedente che questa sera si va a toccare molto interessante. Quanto è importante dare all'opinione pubblica informazione, informazione sportiva, informazione sulla salute? Penso che sia una cosa fondamentale soprattutto questi incontri che si va a toccare con mano dei professionisti che sono venuti qui autorevoli a parlare di sport e di medicina per lo sport e alimentazione per lo sport. Penso che questi siano tappe fondamentali per far sport anche in maniera migliore. Allora lo spot può essere consapevolezza e motivazione cioè motivo per passare all'azione quindi consapevolezza per capire che l'attività sportiva o comunque il movimento fa bene soprattutto a se stessi quindi dobbiamo volerci bene e dobbiamo fare qualcosa per noi stessi che non è quello di correre ai ripari quando la patologia è arrivata ma muoversi prima. La motivazione quindi il motivo per passare all'azione parte proprio dalla consapevolezza cioè quando so cosa mi fa bene e perché mi fa bene ho sicuramente un motivo più forte per mettermi all'azione. Purtroppo oggi la vita quotidiana ci riempie di impegni e ci satura il tempo che abbiamo e spesso ci dimentichiamo della nostra salute e ce ne ricordiamo solo quando è troppo tardi. L'invito che facciamo questa sera è occupatevi di voi prima che succeda qualcosa. Grazie a tutti.